Destagionalizzare il turismo, incanalando l'offerta verso la riscoperta delle peculiarità del territorio, restituendo il ruolo di protagonisti agli operatori economici, agricoltori, ma anche allevatori e piccoli imprenditori. È lo scopo della piattaforma Very Local Trip, un progetto che vede a Ieta, piccolo comune dell'Alto Tirreno-Cosentino, capofila nell'applicazione di un nuovo modello di turismo, più responsabile e più attento alle peculiarità del territorio. Ieta è stato il nostro progetto pilota in Italia, sarà la prima esperienza che noi andremo a presentare sulla nostra piattaforma Very Local Trip e si è creata una sinergia di parti e una collaborazione tra gli imprenditori di diversi settori e backgrounds che poi si sposerà bene con quello che è proprio la missione del nostro progetto. Quindi a partire dagli artigiani, ai pastori, ai ristoratori, tutti i membri di questo piccolo borgo contribuiranno a creare un'esperienza vincente per un turismo sostenibile internazionale. Una full immersion di cinque giorni che ha avuto luogo all'interno del Palazzo Rinascimentale di Ieta fa ripuntati soprattutto su agricoltura biologica e di eccellenza, tradizioni artigiane, turismo naturalistico e ospitalità rurale. La finalità ultima è quella di creare poi un pacchetto rivolto a questo turismo sensoriale, a questo turismo emozionale che insieme a Very Local Trip crediamo di poter portare avanti in un modo serio e anche professionale. Loredana colloca per la CNews24.